L'ultima edizione ha portato in città circa mille partecipanti. Quest'anno il numero potrebbe crescere ancora. E' stata presentata la quinta edizione della Terlizzi Run, organizzata dall'Sd Terlizzi Sporting Club. La manifestazione, che accoglie sempre tanti appassionati della corsa, si terrà il primo settembre e quest'anno vedrà al suo interno l'ottava tappa del trofeo Terra di Bari. Amatoriali ed agonistiche correranno fianco a fianco nel centro storico di Terlizzi, passando per Sovereto. Per organizzare questo evento ci impieghiamo quasi un anno. Siamo partiti quasi da gennaio fino a oggi. Ovviamente abbiamo coltivato anche nei mesi prima il nostro lavoro. C'è tanto lavoro, tanto sacrificio, tanta passione ed edizione per fare una cosa bella per Terlizzi. Quest'anno l'evento, anzi l'evento agonistico, c'è la FIDAL, quindi fa parte di un trofeo Terra di Bari. Quindi stanno presenti, pensiamo, un 500 agonisti più un migliaio di liberi. Quindi pensiamo a un 1.500 presenze che sono tantissime onestamente. La Terlizzi Run è storicamente legata alla tradizione locale rappresentata dal carro trionfale, la festa maggiore in corso questi giorni a Terlizzi, motivo per cui il nome della manifestazione sportiva è sempre stata accostata alla dicitura. Corri col carro. Grazie a questa manifestazione che fa venire a Terlizzi tantissime persone riusciamo a promuovere il territorio, a promuovere le nostre eccellenze, a promuovere anche i nostri tratti identitari. Non è un caso che ci richiamiamo alla cara Madonna di Soviereto e quindi alla festa del carro che tra qualche giorno potremo ammirare dal vivo. Il percorso della Terlizzi Run avrà come cornice tutto il meglio che la città ha da offrire. Il percorso è allestito, è l'unico della nostra città, le ceramiche, molti dei treni sono realizzati per essere in ceramica e per loro dovete sapere che la nostra città è una che ha le maggiori prodotti di città, di ottima emorità.